Insigne a Napoli, quanti all'improvvisata a Castelvolturno. Lorenzo Insigne è tornato a Napoli. Lo ha fatto con la famiglia per trascorrere il periodo delle festività natalizie in vista della lunga pausa della MLS. Dopo aver portato i figli Carmine e Cristiano a giocare nella loro ex squadra Petrarca, in cui ha anche incontrato Juanesus. L'ex azzurro questa mattina si è presentato a Castelvolturno per una bella improvvisata. Napoli, quanti abbracci a Castelvolturno insieme a Insigne qui ha incontrato Luciano Spalletti e gli ex compagni di squadra e componenti dello staff azzurro. Tante risate, aneddoti e abbracci con la squadra, prima della partenza, prevista proprio domani. Giovedì primo grado di dicembre, per il ritiro invernale in Turchia, ad Antalya. Napoli, dopo l'improvvisata di Insigne. La partenza per la Turchia qui, la formazione partenopea disputerà due amichevoli, contro l'Antalya Sporio 7 dicembre all'Antalya Arena, ora locale 20.45, e contro il Crystal Palace l'11 dicembre al Regno Uncaria, ora locale 18. Virgola.